Me lo chiedete in molti, ma esistono davvero cibi capaci di stimolare il desiderio? La risposta è sì, ma non sono molti. Tra i pochi promossi dalla scienza c'è il gorgonzola. Qui dentro ci sono diverse sostanze amiche dell'Eros. La prima è la feniletilamina, la stessa sostanza dall'azione eucorizzante che il nostro cervello produce quando siamo innamorati. Ci sono poi gli amminoacidi liberi come la tirosina, essenziale per il desiderio. Ma sorpresa, c'è anche l'odore. A fare la differenza sembra essere l'acido valerianico, stretto parente di un feromone femminile cui si deve il suo odore lussurioso. Ma come lo mangiamo questo fantastico gorgonzola? Ma con il sedano, ovvio! Il suo potere afrodisiaco deriva dalla presenza naturale di androsterone che conferisce alla pelle degli uomini un odore particolarmente eccitante per noi donne. Per una serata piccante, bye bye ostri che champagne. Grazie!